Scatta di Amoroso alla sinistra, si presenta Navas e c'è il calcio di rigore per l'intervento di Dicara su Amoroso. Parte Amoroso, il tiro e la rete udinese in vantaggio a Vicenza al 36esimo del primo tempo, il calcio di rigore di Marzio Amoroso. Il calcio di rigore per fallo di Stovini su Amoroso. Calcio Amoroso e va al raddoppio, 2-0 per l'udinese al 47esimo. Si lotta all'altezza della bandierina, ancora Amoroso che viene fermato, va comunque su Jorgensen, potrebbe rifoncore il prof, il sinistro vuole invece una posizione migliore di Jorgensen che cerca Poggi. E attenzione c'è l'intervento arbitrale, calcio di rigore. 5-5 Amoroso contro Martantini, siamo nel diciottesimo del secondo tempo, l'udinese che può rendere la partita, la corsa della Champions League e Rugga che trema pensando alla salvezza. Pogolini controlla che tutto sia in ordine, dovrà allontanare i giocatori che sono pronti ad entrare in area. Amoroso contro Martantini, Amoroso ed è il gol del 1-2. L'udinese che dunque riapre il match, Amoroso che si porta a quota 20 nella classifica dei realizzatori, quindi molto vicino a Bandistuta. L'udinese che si porta a quota 20 nella classifica dei realizzatori, quindi molto vicino a Bandistuta. Amoroso in area, Amoroso, Amoroso, rete! Amoroso a gol! Udinese in vantaggio, in delirio la curva dei tifosi friulani. Udinese in vantaggio all'ottavo minuto. Udinese in vantaggio, in delirio la curva dei tifosi di Udinese, battuto il calcio d'angolo. Amoroso, rete! Amoroso, 3 a 1, è lui il goleador della Serie A! Udinese in vantaggio, in delirio la curva dei tifosi friulani. L'unico finale è quella di andare e cercare sempre più nato possibile una grande squadra. Però se Udinese da questa possibilità di essere in una grande squadra, perché cambiare? Io sono contento di essere qua. Musica Musica Musica